Questo rischio ragionato, intanto le voglio chiedere un parere, poi voglio capire cosa pensa di questo piano vaccinale, perché dovevamo essere a breve a 500.000, la media di questa ultima settimana siamo a 320.000, se la convince. Però quest'idea del rischio ragionato, che cosa è successo secondo lei? Che tipo di valutazione è stata fatta dal governo? Beh, anche io sono molto preoccupato e temo che rischiamo un po' di fare la fine della stessa Sardegna, che prima ha riaperto tutti e poi si è ritrovato in zona rossa, ma credo che ci siano state sicuramente delle pressioni molto forti da parte di alcune categorie, dei ristoratori e poi ci sono chiaramente alcune formazioni politiche che, come abbiamo visto anche nelle decisioni prese ieri, insistono molto su questo punto. Il problema è che effettivamente noi siamo un po' in ritardo nella campagna di vaccinazione. C'era un problema di approvvigionamenti, però anche al netto del problema di approvvigionamenti le cose sono andate lentamente. Prima noi eravamo al pario davanti a Francia e Germania, ora più o meno a parità di dosi, nel senso che anche loro hanno dei problemi a farsi dare i vaccini da AstraZeneca o da Pfizer, ci hanno superato nettamente, no? Esattamente, noi più o meno abbiamo lo stesso numero di dosi che sono arrivate in Francia, in Germania, in Spagna e in Italia, eppure noi abbiamo vaccinato, abbiamo dato una dose a poco meno di un quarto della popolazione italiana, poco meno di un quinto della popolazione italiana, mentre in altri paesi siamo già a un quarto della popolazione che è in questa situazione. Quindi stiamo andando più lentamente, lì non è un problema di approvvigionamento, ma è un problema di distribuzione e di somministrazione. Credo che qui noi paghiamo soprattutto lo scotto di avere questo difficile rapporto tra centro e regioni, per cui le regioni molto spesso non hanno la capacità di organizzare una campagna vaccinale, che è estremamente complicata, chiaramente, e dall'altra parte, da parte centrale, non c'è stata la volontà di imporre l'organizzazione. Ecco, questo è un punto fondamentale, professor.